oh eccoci qui buonasera a tutti buonasera ciao capons ciao gretima buonasera anche a te axel e anche la nostra carissima panzi come state belli benvenuti in live benvenuti devo alzare un po qua datemi un attimo perchè ho le luci a cazzo non lo so ma comunque buonasera stasera si comincia a plug tail io non so di che cacchio cioè so che ovviamente è ambientato cosa c'è il braccio so che ovviamente è ambientato durante la peste stanno il mare di topi e cazzi e mazzi vari ma per il resto non so un ciolbo quindi sono curioso anch'io infatti fatemi aprire subito epic perchè c'ero su epic io era tra i mille giochi che avevano dato col tempo su epic racconti della piaga e innocenza oggi sono devastato oggi sono devastato perchè tutt'oggi che monto roba sia per oggi che per domani anche perchè domani non ci sarò tutto il giorno purtroppo a casa causa tra virgoletto di matrimonio causa nuova disposizione oggi scrive ma tranquillo capo non sanzi grazie che stai qui in mezzo a noi allora fatemi fare tutti i controlli del vallongo ma la tua prof ha trovato il posto per la pizza non lo so perchè ormai non non lavora non lavora neanche aspettate che ho aperto il gioco mi sta spaccando i timpani non lavora neanche più alla sapienza quindi quindi credo che sarà andata a cercarla oltreoceano ci sono casini no lo sapevo guardate se mi ce l'ho giocato le palle ce ne avevo quattro boni nati ok altro che one piece si la pizza peace peace buonasera anteppo come stai bello benvenuto in live non c'è l'audio ma la vera domanda è il 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 cazzo si chiama l'epic launcher li prendi i controller in automatico mi sa manco mi sa manco per il cazzo proprio perché non li prende perché c'è la mamma un po' so colonna arabolici si questo è più verso l'arabia saudita datemi un attimo che devo attaccare il controller devo usare ds4 porca eccoci qua vediamo se adesso lo prende meno male avete visto chi può recuperare il soffro io mi vorrei recuperare un po' tutti i tails perché sono un sacco un sacco bellini ma domanda ma dovremmo giocarcelo così dite non è horror no in teoria non è un gioco horror quindi quindi non c'è bisogno i bus aspettate che sto cercando di ritrovare la luce giusta ma vediamo dipende in realtà molto da quanto è luminoso o meno perché se è poco luminoso si se è un sacco luminoso anche madonna puttana non l'avevo visto ragazzi quelli sono tutti topi non ci avevo fatto caso sono pronto per fine mese no sono sempre più convento giocando a resident evil che prenderò le dimissioni comunque slot ci abbiamo vediamo un attimo la grafica le cose non mi prende gli input ogni tanto a caso ci sono i sottotitoli si gioco mira assistita solo ah devi averla alla mira assistita alla mira assistita buonasera ragnar come stai bello come stai nuova partita vabbè impianto su round per me predisposizione intenso vabbè ma sti gazzi madonna e si stavano rosicchiando un cadavere che tra l'altro io non sono così spaventato dai topi sarò sincero eredità dei derun siamo in francia no quindi derun no si dice così non sono per niente spaventato dai topi quindi ok tecnicamente puoi vederla sia da telefono che da pc contemporaneamente non è tipo discord torno dopo che sto seguendo le film ma tranquillo tranquillo anzi i cazzi per essere passato nel mentre oh guardate che è tutto luminoso amicia allora aspettate un attimo che questo è il bello della diretta come si dice no allora dove cazzo me l'ha messo datemi un attimo no c'è un cazzo da mettere non posso mettere niente madonna mia ma che è datemi un attimo scusate perché che so perché ho la gpu al 100% ma che cazzo da succede ma facciamo così tanto ditemi se si sente se non ve lo devo alzare abbassiamolo abbassiamolo madonna mia così pesante tutto avrei detto perché fosse pesante si allena oh c'è il dogo leon c'è un dogo speriamo non muoia ma tira tipo queste laggate finte a caso però aspetta ci sono dei problemi ma ci sono dei problemi molto pesanti che cazzo che cazzo datemi un attimo non per qualcosa ragazzi è perché la cpu sta al 100% giochiamo a doom a tutto ad ultra datemi aspettate un attimo facciamo un un riavvio rapido un riavvio rapido in dolore del gioco magari è successo qualcosa che non ho capito io perché in generale c'è la cpu che sta costantemente al 60% a caso totalmente totalmente random siamo durante la peste non è che gliela porto io sfiga gliela porta il gioco c'è qualcosa di dobs che si sta mangiando tutta la cpu tutta è l'eredita dei derun vaffanculo comunque scusate se no ce lo teniamo quel finto lag che non vorrei che esplodesse la cpu 1348 su dovesse del regno di francia la famiglia di lordi del unsico delle ultime ore di una fragile pace mentre i confini della guinea guienne rimanno per la guerra madonna chissà come migliorerà poi il secondo però ok per adesso almeno sembra essersi calmato un po' il pc della guienne ok ci rivediamo questo pezzetto quindi siamo nobili io pensavo fossimo dei popolani del cavolo invece diciamo delle noobili che cosa è parso in basso a destra ho premuto l2 la corteggiavi sotto proprio a quell'albero solo quello che c'è doggo che hai trovato no piotta il papà attenta che te spezzi le dibie guarda che l'età è bastarda e la madonna l'età ma oia madonna che bello molto onirico comunque un riavvio mi risolve un sacco dei problemi sempre madonna piottiamo il pianissimo vabbè giustamente c'è il combattimento per mirare con la fionda vuoto ce ne stanno altri ah perché erano le mele ok sono subito stavo mirando spetti spetti ah ok se lo spari veloce non posso prendere altri sassi solo sei sassi perché griglia vabbè ma comunque perdonate io sento un po' di tensione col pisci le mele io sento un po' di tensione ma comunque durante la peste non è che c'è stavano cioè non è porca troia le for dead con i boomer capito sono sì sono peste malattie qua è un po' tirato su con i topi ok premix però è quello della xbox per scattare minchia usain bolt la chiamavano leo non mi stira del cane le leo 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 o dici tu leo 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 pensavo ci avesse molto meno fiato che hai trovato che hai trovato un cadavere un ah un cinghiale ma con i sassi il cinghiale no lo stelta lo stelta lo stelta anche c'è ragazze robert non è papà credo robert oppure si non si sa ragazzi voi non so se avete idea però un cinghiale però un cinghiale ma che gli vuoi fa i cinghiali hanno una pelle che è dispessa e di evoco certe volte per ammazzarli non li trapassi con le lance ci fanno le armature di cuoio con la pelle del cinghiale ci facevano oddio no stiamo andando palesemente nel bosco della strega cattiva che bello questo accentino francese e beh gli hai tirato comunque in sasso gli hai comunque tirato un sasso in faccia male bene non gli ha fatto ma in realtà il cane contro il cinghiale non so chi ah ok ci sono anche le zone che ti rallentano zone che ti rallentano ma dove cazzo stiamo andando eh oh vabbè il vento li sradica gli alberi non è di certo questo il casino ma che ma no ma ma zia ma questo è un po' ma ma questo non c'era ma non può essere il cinghiale che stavamo inseguì cioè se io spero che adesso lo troviamo l'ion col cinghiale perché se veramente quello è il cinghiale che stavamo seguendo mi preoccupo sì ma perché inizio serata oddio è stato veramente qualcosa era veramente il cinghiale no oddio sta raga sta davanti un buco ok adesso ho paura dei topi ma che cazzo è ma come è possibile ma quindi c'è del ci sarà del sovrannaturale ci sarà perché se non si spiega cazzo e il dog è morto e so hugo che sarà il ragazzino che bellina che è lei tutta sta luce sarà ancora per poco eh datemi un attimo che qua ho lasciato una roba aperta ma la tua capo c'è questo blur così però che mi sta mi sta rincoglionendo devo trovare ugo ma posso ammazzarla la gallina no che se no facciamo come skyrim ci insegui chiunque salve sono stati gli inglesi a mordere ma sta spenn ah ok direi qua la gallina dovrà ammazzarla minchia però molto che posso esplorare per cazzi miei sì comunque questo fine settimana penso che disinstallerò e reinstallerò streamlabs perché chat veramente messa da troppi problemi cioè non può occuparmi streamlabs il 70% della cpu a caso anche perché lì in basso dice 5.8 raga c'è qualche cosa strano ah quindi già cominciato ah beh giustamente c'era quel buco là cioè guardate che cazzo sta facendo oh ma per dio eh non credo che addio freghi un cazzo degli animali oh oh cucciolina e cucciolino pure lui ma quindi cioè il cinghiale era stato devastato da qualcosa ma io spero che a un certo punto c'è stato tipo che c'è stato i topi i ratman di warhammer posso fare un po' sono un particolino eh lo scopriremo io non ho mai visto niente ha avuto un altro dei suoi attacchi che c'è al fratellino c'ha gli attacchi di panico va che bella casa sì ho capito che comunque è una casa di campagna ma per terra potevate pure togliercela la fottuta paia poi non so se è qualcosa di del periodo storico eh se la gente sta venimmo vabbè che durante sto tempo come se sapessero medicina e altra roba eh cioè io pure che si penseranno addio che ci punisce infine morti tutti posso scendere vabbè vabbè che all'epoca pure i spezzi però io sto soltanto per scontato delle cose che oggigiorno ci abbiamo ma che in tempo cazzo eh che bello però di ambienti ciao lea perché so che a breve sta per esplodere cioè è troppo felice per adesso la situazione ciao ma posso scattare anche dentro casa no peccato posso ancora pensare hanno smagiullato un cinghiale ma come cazzo hanno fatto ma pure il cane ma mi sto per comando il cinghiale ma è pure il cane cazzo sapete perché le case e le case le scale nelle robe medievali erano fatte così cioè in realtà non così larghe molto strette perché durante il medioevo che cazzo succedeva durante gli assedi tu dovevi difendere no e quindi avendoci il torrione avendo la cosa molto stretta e avendo la curva così larga tu che attaccavi ci avevi il vantaggio e chi si difendeva invece ci aveva tutto il dito in culo perché erai in una posizione molto scomoda idem per questi gradini così mi si a cazzo anche se qua si sono fatti stranamente bene è tutto calmo ciao luiz beh mi madre vabbè ordini di mio padre voglio vedere mi madre ho lasciato qualcosa sul mio letto dov'è il mio letto se tu così la seconda camera madonna madonna questa è camera tua ma no gesù oppure qua no invece era la prima una tovaglia una tovaglia una tovaglia ma la domanda vera è dovrei giocarlo con mouse e tastiera no ma sta molto auto aim ma addirittura le cazzi in così ma perché l'abbiamo vista pure prima ci penso oggi sono proprio dentro una data con le moffette lei palesemente una strega la madre ed è pure morto male mamma però vabbè veramente la mamma è lei e milf cioè è lei con qualche anno di più scusate un attimo sto yugo non è il fratello suo lo conosce a malapena forse perché da quando è nato è sempre stato male vabbè queste saranno cose che risponderanno piano piano eh milf dove è la mamma di alicia o alicia o alicia che silenzio dai stai zitto ma arrivo beh c'è il coso no si arrivo un attimo yugo ma quanto piccolo è scusate yugo se mi fai pieno infarto te spacco i denti io te lo dico te lo dico ah ma è proprio piccolo 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 quanti anni ci avrà sei sette otto vai non ci siamo visti tanto ma come non vi siete visti tanto abitate nella figa stessa di casa nicolas madonna palesemente deus vult eh mi sa che adesso sta per essere decapoccizzato lui dov'è perché vogliono il figlio no non è mamma vittorio che ha appena scapocciato qualcuno vittorio pogherino per il tuo secondo mese di fila bentornato nella gang ed è non è stata ed è non è stata ed è non è stata una situazione temporanea grazie bello e benvenuto anche in live un tempismo per chiamare hugo guarda quanto piccolo ah posso proprio portarlo sotto braccio titto porca madonna trattamento nel star chiaramente ho capito ma stanno ammazzati proprio tutti ma altro che che porca troia veramente trattamento nel star che cos'è quella luce che sta tornando indietro allo stronzo ma questa è proprio l'inquisizione madonna ma perché siamo mesi durante quegli anni in spagnolo in francese rune significa qualcosa di particolare ragazzi rovina forse che bello che lo posso portare così stanno scuzzando tutti perché è colpa tua piccolo pezzo di merda mo ti consiglio eh ma vostra madre secondo mi oh my god Louise è sì Dove cazzo vado Madonna mia Almeno li stanno uccidendo direttamente Non li torturano Che so che dici Meglio eh Più o meno Oh porco Salve Ciao mamma Oh Stavamente Mi si è inculata pure a me Ci stanno a seccare tutti Vediamo se Secondo me la madre fa una brutta fine pure lei Guarda come Un rintronato eh Ma la madre comunque è palesemente tipo simil strega Non so perché mi dava proprio quelle vibes Se lasci Hugo da solo andrà in panico e attirerà i nemici in zona Ma what Pure la madre in realtà prima faceva la classe del rogue Certo per Dio sto ragazzi Mamma mia guarda Guarda io lo so che lo dovrò prendere a pizzettoni Vabbè siete ciechi Mamma vai Sì 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 Ma palesemente prima Prima era un ragazzo di assassina La mamma Fortissimo se l'ho ucciso con un cazzotto Ma non lo tiene più per ma Ok Che te Piccolino Ma perché stanno a cercare sto ragazzino Sa fa qualcosa che non so La roccia Per essere più furtivo Tieni prima Per lanciare il proiettile a mano Ah ok Prima l'ho tirato come un minchio Vabbè perché per fare danni Devo fare con la frombola Giusto Si chiama frombola Il Quella che ho vero La Beh più Frombola o fionda Un mix Perché quella che gira Dovebbe essere la frombola La malattia Lancia i proiettili La malattia si è risvegliata Che malattia L'educo sarà un gioco molto più sul furtivo Quindi anti me Io penso l'unico gioco su cui sono veramente tanto furtivo È Metal Gear Eh ho visto si è stato fottutamente portato via da non so che cosa Infatti non mi spoilerate roba perché voglio godirmi le cose Ma perché così Ma do Bella però sta cosa Figa Mi piace Quella è la malattia Sì e beh che sia qualcosa di collegato alla peste Questo L'ho capito Però come stavo dicendo prima La peste non è che crea i boomer I leakers Le cose Poi magari qua l'avranno estremizzata L'avranno portata Tipo al fantasy Yugo dove devi infilare il boom Eh Dipende Capons Perché i primi Momento La morte Yugo La morte Dopo Cioè diciamo che se ti Non ti dà fastidio Della roba molto molto vecchia Direttamente dall'1 Poi ti giochi il 2 Il 3 Se riesci il 4 Che è solo per console E così via Se invece Un po' il vecchiume ti dà fastidio Cominciasi dal 3 Che è uno tipo dei migliori Se non il migliore in assoluto Poi se vuoi invece proprio qualcosa di ultra mega giocoso In Metal Gear Gioca da The Phantom Pain Che tanto è leggero come la morte Lo Lo compri Ha veramente un cacchio di niente Diciamo che The Phantom Pain È utilissimo per chi Per chi vuole approcciarsi Per la prima volta Però non vuole Le cose molto Legnose La Overwatch 2? Sarà come Overwatch 1 ma Con la grafica più bella Io devo ancora provarlo E mi sa che sto fine settimana Col cacchio Vai Ma fai entrare prima Yugo No? Eh io non ho visto ancora un gameplay di Kiriko Buonasera Come stai bello Benvenuto in live Anche a te Harlock Ok Ma riesce a controllare la peste Tutta così Nei primi Quanto cazzo è passato? Nei primi 20 minuti? Non mi dite né sì né no Non me lo dite Ma può controllare la peste? Per questo Lo figa voglio Qualcuno mi traduca Deron In francese No non l'ho giocato Harlock Né sì né no Bravi Così vi voglio Ah oppure c'ha qualche malattia Che lei dice È la magia Qualche roba Magari c'ha Buono Allora andiamo Dove cazzo è andata la madre? Mamma 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 è partita I topi in realtà Ma non Come fa Non è possibile Però appunto Ma poi Poi si scoprono le cose Ma che cazzo è andata? Ma ecco la mortaccia tua Per chiedere a Yuga e a Beatrice Di non muoversi Mamma ma tu non ce l'hai in coltello? Così eh Nel dubbio No questo non è il due Harlock È il primo È il primo giochino Di qua che c'è? Uh Eh Eh Cazzo devo fare? Devo passare zitto zitto E tiragli un vaso in testa Ma infatti posso tiragli il vaso in testa direttamente? Madonna Un ninja sta signorina Come cazzo si apriva l'inventario? Madonna che lanterne fortissime Ah beh Devo chiamarli Quando quello stronzo Si gira Forse È là Cori ragazzino De merda Buonanotte Harlock Che simile per essere stato con noi Bello Ma lo dovrò tenere per tutta la partita Con per mano Questo piccolino Comunque che mi racconta di bello ragazzi? Ma non ha quanto forte la luce Ma perché? Ah ok Ti dice attiralo Così quando si gira di spalle Puoi Inciullertelo Le Madonna incazzadissimi Guardateli What the hell was that? No non so come si fa l'accento francese in inglese Corri ragazzo laggiù Tiri Tiri Signora non può lanciare una macumba La pena ma normale Insieme Giusto giusto Ci ha tradito il servo? Tu c'hai proprio la faccia da traditore Madonna quanto sembra Ellie Dio non mi ricordo Già non mi ricordo più il nome della protagonista C'hai il fiatone C'hai il fiatone Ammo biotti figlio No non c'hai tradito invece Non c'hai tradito Amicia 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 Tu devi portare il tuo fratello a Laurentius Il docetore? Sì Il mi aiuta a trattare Hugo Il mi aiuta a guardare E Che cosa per te? Sì Non mi aiuta a guardare Amicia Ma io ti necessito Io ti necessito Cuoco Por co? Eh, perché la terra trema? Ho fatto la cazzata Mi son distratto Stavo pensando Amicia è morta, vabbè Ma che hanno tirato un boffolotto sui denti Perdona Perdona Eh, mammi Mi sa che l'hanno fatta a spiedino Non dobbiamo fare male al bambino E stanno tirando delle lance Di qua Minchia, non avevo capito dovevamo andare qua Esatto Vabbè ma c'hanno C'hanno il cazzo di Raga ma c'è qualcosa che si sta mangiando le persone Comunque Eh, con il drunken sailor Sì, comunque Gli stranieri Magari perché era agitato E quindi Li richiamava lui Però io devo Vabbè Altri dieci Ripronghi Bentornato Harlock Sono i topi venuti a estirpare l'umanità Magari Però devo Devo capire come se la gestiscono Perché se ci mettono Poi il sovrannaturale Figo Figa come cosa Figa Come cosa Invece se Sarebbe un bel plot twist Perché magari uno si aspetta la peste normale Invece poi Tranquillo Il fatto che lui Controlli I topi Ce sta come cosa Già te sei persa Yugo Che c'ha Cagotto Affischio Fortissimo C'ha baci nella cura vicina Però il come Il perché Cioè Sì ma lei Non sembra tanto Cioè C'ha il L'aspetto del nobile Però sembra molto Non vissuta Però Più quel tipo di nobile Che va per i boschi A cacciare No? Quelle un po' più particolari Tra virgolettoni Vissuta Cerca aiuto È ancora giorno però Dai Miracolo Meno borghese Sì Più Alessandro Troveremo il sushi De mamma e papà Altro che Fottuto filetto Al sangue Troviamo Madonna mia Sì ma questa È appunto Sta roba È così Perché È passata L'inquisizione Un O altro Poi ci sono i cavalli Ciao bello Eh so cavalli No eh Esatto Vivono Hugo I rumori che Chissà perché io Non ho mai visto a fondo Ma la peste è una cosa Che si può attaccare A qualsiasi roba A qualsiasi essere vivente Può anche Puoi prenderlo anche Tramite magari Il cibo Se ci stanno robe dentro Perché da quel che mi ricordo La peste è tipo Quella roba che ti Fa dei fottuti Mega buboni Negli organi Una roba del genere Esplodo e ti lascia il buco Negli organi No Non i polmoni Ne ho detto I polmoni Però è una roba Devastante Madonna che bella Cura dei dettagli Però Che bella Perché è un po' come l'ebola Cioè È molto sim Oh c'è una Oh gente Eh cazzo Doppia via Andiamo di qua Perché tipo L'ebola vi fa venire Un sacco di buboni All'interno Degli organi Che una volta che scoppiano Vi fanno morire Distanguati poi Una roba del genere Pensa quando diventa notte Yugo Pensa quando diventa notte Che bella però L'ambientazione Madonna Madonna Maronne Eh perché La pezza Era una di quelle cose Che si attaccava Con una facilità Veramente Ignobile Lo dico per esperienza Eh no Lo dico per Per scienza I santi Ne hai visto Come vi hanno salvati I santi Eh esatto Mette dalle mani in culo Porca troia Ah beh che giustamente Non credo che Yugo Abbia mai Avuto vita sociale Porca troia Tutte Tutte Senti come scatarrano Sento un buon profumino Mmm Eeeh Come corri Ah quindi Proprio sempre Vai 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 Più veloce Che sai Cioè se vanno Un culà Mmm Sì E ci impianteranno Anche un paletto Nel culo Se gli gira male Butta 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 Ok Certo Mi devo Mi devo Mi devo imparare Sempre i tassi Tu madre Qua Sua colonna Eh Niente Ah proprio copertura Alla metal gear Abbiamo qui Vai Comunque loro Sono dei fottuti topi Cioè per quanto Sono furtivi Sono dei cazzo Di topi Ma Ah Madonna 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 Sbrigate Sali topo Di merda Tutto con i topi Ah Ah pensavo Io volevo Chiudere la porta Te lo giuro Come cazzo Si gira Ah ok Così Mamma mia Mamma Mamma mia Come sto Per fare La curva Di qua No Ah va Ma va a cagare Va con la Visuale Ma va La fangula Vero Anche quello Fata Sarei morto Come uno Stronzo Se ci avessi Provato Andiamo Hugo No Non è Quello Si L'ho L'ho Vista Le Ah perfetto Già 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 Sul Già Sul Cosetto Che cazzo È un Carrucolino Guarda Guarda Eh sì Ok In realtà È comodo Come sistema Per Per ruotare È molto Molto Comodo Perché fa Tutto il Movimento Da solo Vedete Che curve Strette Mamma mia Manco Fast and Furious Per adesso Siamo armati Di speranza Di una Frombola Ma ricordate Bene Che Davide Uccise Golia Con la Frombola Direttamente In fronte No Si ha la fionda Ma me la Impianto In culo Hugo Voglio vedete Usare la fionda Contro sette Metri De Colosso Qua mica Stavamo Dentro Le viabbe Cristiane Signora Però lei Ha un po' La mamma Zoccola Se lo faccio A dire Vai 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 Come It's going To break Ma vaffanculo E quindi Ah di qua Bravo Soldo De Cacio Saranno tutte battute Così Ve lo dico Oddio Ho fatto cerchio C'era schi No C'è il combattimento Corpo a corpo Ma il cazzo Stati a di Ce l'ha schivata Ragazzi Alla fine Ci stanno pure I perry Bravissimo No Ah beh Lui comunque È molto Cucciolino Lui è molto Tenerino Hide Ma quanto cazzo È grosso Quel tipo Ma è enorme Figa Ma siete Scemi Ma saranno Dometrite Cristiano Ero un fottuto Nemesis Veramente Un tyrant Se si chiude da sola Rido Porco Madunno Carrie Vai 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 C'è una porticina Cazzo E invece Oh Una porta aperta Un miracolo Calma 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 Però Porco Quei cazzo Devo andare Ah c'era una finestra Di merda Ma chi l'aveva vista Perché voi dovete capire Che è tutto molto Chiaro Come posso dire C'ha tipo Tutto questo piccolo blur Che ti rincoglionisce Ah Hai aperto Ma dimmelo Li mortacci Tu ragazzino De merda Io ero armato De San Pietrino Contro Golia Mortacci Ma stiamo facendo La stessa strada Di prima E non me ne sono accorta Ebbene Oh Buongiorno Signora Ma tranquillo Harlock Tranquillo Ah La parte più infetta Buon game In caso Signora Non si avvicini Perché Ti tiro un sasso Non respiro Qua dentro Chiudete i fornelli No No Rip Ah proprio diretto E allora Buona Buonanotte Io non Alicia O Alicia L'hai detto tu stesso Qua ci sta un sacco Di gente Fottutamente infetta Che vi mette Le malattie brutte Io non me li metterei I vestiti Ma Attenzione La I I Ma questi Non sono vestiti ragazzi Queste Questa è un'armatura Leggera Ma che Cazzo Tira gli insasso Vedi che se ferma Guardate che Fashion Che è diventata Allora Io non farò Commenti Perché C'ho paura Che lei sia Minoren E poi Poi me lo buttano Dove è andato 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 Mi nome è Clairvy Io sono Alicia E questo è Hugo Diciamo Grazie Grazie Clairvy Dove è andato Che tra l'altro Dove è andato Proprio Proprio Altro che era Punizione Di Dio Ci stanno Gli upgrade Erano Erano i centri Prendi Prendi gli attrezzi Non ho letto Prendi il pezzo Di cuoio Nel coltile Sul letto Cortile Cortile Sul letto Signora Che cortile Allora Io sono cieco Ragazzi Lo so Eccolo C'è il bancone Alla Della Sto Fas Praticamente Che per riparare La tua Fionda Codice Colpire I nemici La testa Li uccide All'istante Mentre Giusta La fionda Amici E ne approfitta Per cambiare Alcuni Alcuni Materiali Così facendo Aumenta la velocità Dei proiettili Fino a rendere Detali Ai colpi Nella testa Attenzione Vabbè che Uno ce scherza Buonanotte Capons Grazie per essere Stato con noi Bello Ma quindi Bisogna esplorare Stato Uno ce scherza Ma la Frombola Fa malissimo Perché Usa Veramente Che era L'energia Centrifuga Cioè Girare Sta roba Generava Veramente Un'energia Cinetica Incredibile Eh no Ma cinetica È quella Che scatena Il Girare Le cose Come si chiama Cioè Il fare Sì Eh Quelli sono io A lezione Io Mi stava a chiedere Chissà quando Glielo dirà Che è morto Il padre Ma proprio così È morto Zitto Brutalmente Una freccia Dietro la testa Te pare Che c'è Stava il buco Apposta Te pare Adesso Quando vuole Come piotta Il ragazzino L'hai visto Che sta a fare Vuole morire Che te devo dire Guarda che questa Alicia Molte insegna una cosa Che vedrà in futuro Si chiama Legge di Darwin I geni più forti Sopravvivono In questo momento Sono i tuoi I geni più forti Guarda dove cazzo Si è infilato Però vedete Che pure Cioè Io ho capito Che all'epoca Non c'è stava La medicina La conoscenza Cioè Non era noto Tipo Oggigiorno Ma tu poi Poi mette I cadaveri Dei malati In mezzo A dove Magnano I polli C'è Ci siamo infilati Proprio nel centro Della peste Comunque Porca troia Aiutalo Morirà Bene Si Non sapevano Un cazzo Puoi eliminare Colpendo la testa Con la fionda Ah proprio così Si Questa ragazza Però ci avrà Dei traumi Ci avrà Di PTSD Incredibili So che io Dovrei andare Da Hugo Lo so Però non è Che magari C'è qualche C'è qualche Materiale Che cazzo Ne so No Ma sarà stato Rapito Da Mastro Geppetto Sicuro Però che bello Graficamente Molto semplice Niente di Eccelso Ma c'ha un Impatto Genere E ho cresciuto Molto Don't Made me Don't Made me Davanti Ad Avel Tieni premuto Per schivare Ok Ah c'ha È dietro Ok Ah no Devo togliergli L'armatura C'ha C'ha I ganci Dietro Non è che c'è L'auto Aim Per certe cose Ah ce l'ha davanti Povero cristo Questo Questo è un cristo Che Gli sarà morta La moglie Questo gli sarà morta Tutta la famiglia Povero cristo Peccato Avrebbero potuto Usare con la roccetta Qua in fronte Madonna mia Eh Eh sì Hai ammazzato Eh Ghiugo Tira gli anfront Al bambino Per favore Sei una cima Prende No no Sì Sta dormendo Ok Vedi Lì hanno fatto Il tiro su intelligenza Hanno capito Che c'è un po' Un modo Per entrare Ce l'hanno fatta Ma già capitolo 3 Ma scusate ma quanto dura Sto cosa La presaia Quanto dura Pure questo Due live Non credo Questo devo proprio capire Perché streamlabs Usa così tanta cpu Non durava troppo Pensavo di sì Visto Il tipo di gioco Tutti pure quelli Power up E cose Ah giustamente Il medico del paese Sta in chiesa Eh giustamente Madonna che bello Ah beh ok Neanche poche Però Effettivamente L'ha Stranamente Accettato subito E' una cosa Che sto notando Che sto notando Solo io Zitto Per dio Zitto Mettigli Che cosa In bocca Sto raga Vabbè che è un ragazzino Pure io Pure io Che cazzo sto di Alcol Eh in chiesa E di Come si divertono Salve Pregherina Eh perché Vorrebbe stringerti La gola In questo momento Tanto lei Mi ricorda anche Tipo delle vibes Alla Come si chiama Quella di Horizon Zero Dawn Un rosario E aloesie Quindi E io dovrei giocare Ancora il primo Ce l'ho per pc Dopo che l'ho provato A portare La Che è Ma che cazzo L'aveva vista Sta roba Padre Thomas Tira Tira In sasso Sì Anche perché Dopo questo Dovremmo cominciare I souls Per averli Almeno sul canale Perché infatti Rompere tutti i letti C'è anche Baionetta Sì Belli 70 euro Che mi partiranno Che a proposito D'esordi Il mio controller Ancora non è arrivato I miei due Controller Ancora non sono arrivati E c'è questo Vago presentimento Che o non arriveranno O me li devo andare A prendere da solo Visto che sono bloccati A pomezia Ma vabbè Poi perché Rompere tutto Qua Un euro Però giustamente Un euro Va con poste italiane Slash Dsa O sda Non mi ricordo Ma cazzo si chiamano Quindi Hey Non so perché Un euro Ha scritto Un quarto Del mio Del mio Indirizzo Sul pacco Ha scritto Via Giustamente Già quelli Non li sanno consegnare Si sono ritrovati Via In Italia Ma va bene Ma va bene Belli carofani Belli carofani Per fare le croci Per fare le croci Eh ho detto Perché non Non l'ho mai Fatta Quindi non sapevo Neanche si potesse fare Cioè non sapevo Tu potessi Andare lì A dirgli Qui c'è il mio pacco Si lascia fare Ma è un viaggio Che faccio Perché cazzo Ci hanno 150 euro Di merce Salve padre Maron Eh sto La fama Ti porta ovunque Però è buona Come cosa Chi l'ha detto Subito Perché almeno Non ci saranno Tutti quei momenti Del No Si Sta lì A divertirsi A mamma Perché non puoi lasciarla Dentro una cripta Durante la peste Ma Dopo Adesso Dio Guarda Cazzo Vostra Anche tradotto In romanaccio Che Dio I benedica Quello Però grazie Per l'info Fatala Perché non lo sapevo Comunque Grazie Veramente Per l'info Che poi la gente Ti fa Perché acquisti Da Amazon Perché acquisti Di da Amazon Di da Amazon Madonna Però adesso si vede che il gioco è fatto Non per stare al Alla luce del giorno Ma per stare così al buio Vabbè sì ma gli dovrò dare tipo il numero del pacco Tutte quelle robe Bruder Morrell dovrebbe essere qui Siamo le ultime due rimane Bruder Morrell Stai qui Sì sì vai Mi ha dato pure la torcia Sì sì Assicuratevi di rimanere alla luce Vaz senza la torcia Ti ha appena dato un bracetto in fronte Darwin Massimo nuovo padre Eh sì li sta richiamando Perché sono due le cose O li sta richiamando O li percepisce anche Magari per adesso li No Allora i topi si sono tipo tre quarti buggati Però Che cazzo fate Tranquilli Ma quello è il Quello è il Ma anche tutti che Ci hanno fatto lo spuntino Madonna I topi sono fatti un po' Merda E l'hanno Dilanato Dilanato Puh vabbè L'hanno devastato Nel buco del culo Eh questo vi faceva schifo però Ah non Come non Perché non puoi Come non puoi attraversare gli ostacoli con la torcia Ma chi l'ha deciso Il vostro cervello francese di stupidi Che tra l'altro questa paradossalmente Proprio in un paradosso enorme È una cosa che può accadere Così tanti topi Perché i topi sono una di quelle Di quegli animali Che si riproduce a una quantità Fa una quantità di figli E lo fa a una velocità incredibile Cazzo Ah perché questo è un legnetto Eh vabbè ho capito È fatto di polistirolo Cioè guarda lì Fai attenzione Luce che andrà via Come tocca il suolo Vabbè Ma perché dovevo farlo cadere Bella però sta cosa Chissà se puoi usarli Per uccidere gli altri Posso prendere questo? No Allora noi andiamo di qua Ci sono dei sassi Per? Ah per quello Porco Ma sta davvero che Quarta che cazzo Gli hanno fatto Bellissima sta cosa Però ragazzi È veramente figa Spaventosa Ma figa Di qua che c'è Cazzo di niente Madonna appena ti avvicini Subito Bestie de satana Quanto sono sicuro Che si sta per sfondare Tutto Però esploriamo Perché avere dei power up È interessante Come cosa Eh ma sì Ma perché questo Dovebbe essere un indie Originariamente no? Non è un gioco AAA Beh Qua c'è palesemente Lo zampillo di Dio La mano di Dio Ha toccato Ragazzi Sta creando un modo Perpetuo Che non perde No Ok si sta fermando Eh son con te Sono con te Ma perché sembra Interessante per adesso Sembra veramente interessante Molto semplice Magari Nelle meccaniche Ma sembra fico Buonasera Ragnar Come stai bello Bentornato Bentornito Tieni per mano Questa bestia Di sadana Di ragazzino Ehi 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 Dopo i bastardi E sei E di qua C'è qualche cosa? C'è una pentola Ma che cazzo Gli usi contro i rati Gli dirai La padella Massimo Oh quanta roba Per power up Buono 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 Vabbè comunque Ma se staccionate così piccole Può sorpassarle anche da solo Credo Piota No E qua Madonna Tranquillo 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 in casa Oh quanta roba Che cos'è quello? Attrezzo Ah per i power up Vediamo che power up ci sono Tasca Capacità massima di materiali Di ciascun tipo 12 Sacca di munizioni Facciamo una tasca Secondo voi Sarà un power up Che appare anche sulla cosa? Questo sembra un borzello Oh E' apparso il borzello In basso a destra Sulla coscia Ma bellissimo Sono fisici Power up Io Alien in Isonation Non penso che Pur Invece di giocarlo No No Entra la luce Scrivete Non vedo alcune torche Come possiamo E' pur i topi A quanto pare Pur i topi Infarto Allora possiamo far cadere La carne Per fargliela smangiucchiare Per fargliela smangiucchiare Ma la carne Domanda Gergo tecnica Quanto dura Eh madonna Quella cosciotta Direttamente dall'Olimpo Visto che in cadavere Se lo so consumato In un secondo Eh di qua abbiamo la peste Sì anche se non quella Ma io Se fossi i topi Abbiamo preso tutto Via 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 Però bello Interessante Come cosa E' interessanti Sì quelli che sto per sparare io Madonna data Quanto cazzo è grosso Sto monastero Ecco perché C'erano così tanti Letti esplosi Perché ci stanno Veramente un sacco Di monaci Mangiucchiati Eh ma lo farei Anche io Se non Desse delle malattie Mangiare Sappiate che Mangiare carne umana Da Dovrebbe contenere Un parassita Qualche roba Non ho mai capito Come funziona Porca madre Invece dell'acqua Io faccio con i topi Ma io voglio Quei power up Hola Lì c'è un power up E lo voglio Cazzo Lo voglio Quel power up Ma dite che pure Questi pochi topi Mi Mi smangiucchiano Il culo Oppure no Perché io Perché io Tecnicamente Lì posso Far passare Yugo Posso scendere Dicci che Veramente Fanno Fusion E mi distruggono Il culo Quanto tempo Il padre Ricordiamoci Che nel tutorial L'ha alzato Un albero Dio mio Stai calmo Stai calmo Dio Cristo Here we go again This is the moment No Bestie De satana Sì ma questi Non sono solo Topi Sono anche Incazzati Neri Che crampo La gamba Che mi hai preso Ma c'è se Sfallite Il Come cazzo Si chiama Il Buttosmashing Che glielo fate Cadere in testa Ma non posso Risalire Alicia Oh Oh Ma ready Un paio Dei cazzi Aspetta Io mi devo Muovere Con lui Ma mi hanno Appena Mangiucchiato Se l'ho Fatto Sì ragazzi Ma c'è una domanda Che io mi sto Porgendo Fortissimo Lì Quello C'è un power up Ci sono due Power up Come straciolo Libre Ah No Una puttanata Vaffaculo Pensavo di Dover aprire la porta Come la prendo Quella roba La voglio Allora se scendomi Si mangiano Perché vedo che Qui Mio zio Sono stato Smangiocchiato Malissimo Sopra Non mi pare ci sia Niente Dietro c'è una Dietro non c'è una Candela Dietro dove Adici posso Usare Questo Gioco Mi sta Mandando Altamente Affanculo Mi Bazzami quella Merda di torcia Bazzardo Grazie Ok come si prende Perdonate Mi è uscito Un attimo Pucci Invenate in quel Bucco e non rompere Il cazzo Quando sei uscito Non rompevi Tanti I coglioni Ok Perdonate Perdonate Cortesia Sono 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 Si sono Dissolti Ragazzi Se l'avete Visti Vedete che ho fatto Bene a prendere Quel power up Perché Non credo che Troverai Tipo nei livelli Abbastanza roba Devi fare Tra virgolettoni Le scelte E avere Più capienza Ci permette Di prendere Più rob Magari Prima di raggiungere I power up Tanto se torci Ci stava Dentro Boil La benzina Madonna Che bello Tanto che muore Papà Arrivo Dov'è Dov'è È Come on Come on Come on Come on Paio De coglioni Ah Ma domanda Posso tirarlo? Non posso Tirarla La torcia Davvero? Dai Sarebbe stato Figo No Non me la fa Tirare Picca tutto Picca tutto Corri Sbrigati Sbrigati Sì Quando stanno Troppo vicini Alla luce Implodono Letteralmente Ragazzi Ciao Tito Come stai? Bello Benvenuti In live Bienvenuto Zitti Zitti Guatti Guatti Boni Boni Dov'è Ma cazzo Ci sei arrivato Là Bravo Sordo Tecacio Eh Aspetta Che non ci vedo Un cazzo Lì Sono contento Stai tipo A palla Sul letto Che fai Yeah Che strilli Allora Sasso Siera Una roccia Però è anche Molto tipo Puzzele Voglio usare I topi Contro I cazzo Di persone Che hai per me Ah ok Non conosco Dean Wolf L'ho sentito Molte volte Nominare Ma non Conosco Ma resiste Sto Zeppetto De legno Fino Alla Ma siamo Sicuri Ma stiamo Per davvero A fare La cazzata Sino Che sia Sul lupi Mannari E cose Non lo sapevo Però Non Mai Visto Proprio Mmm Si sono Magnati Le ossa Ma che Cazzo Vi servono Le ossa Piglia tutto Madonna quanto Alcol Stiamo trovando Se vedete Che siete Proprio Se vedete Che siete Proprio Dei Parrochi C'è anche La metodologia Già Così Tutto Mischiano Occidente Oriente Norrenia Non si dice Probabilmente Norrenia Però Che bella Questa C'è La morte Però Bella Questa Musichetta Così Chill Posso andare Di qua No Eh Però Sembriano Una forza De fa Come si dice Di dare La La comunione Ah Figato Ok Ok Quel tipo Giustamente Bellino Dato le Kitsune Bellissime Pure Le Ioni Se vedete Qualcosa Che si Illumina Che io Non ho Mai Preso Ditemelo Perché Sono Power Up Che non Mi sono Inchiappettato Per sbaglio Magari Include il Naso Fortissimo Ma perché Tutti 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 A cazzo Di fuori X-ray Definitivo Oh Madonna Il Vec Visir Cos'è il Vec Visir Quanti Paura E io Pensavo Che non Si Trovassero Invece Te li Tirano Dietro Come se Fossero Dei San Pietrini Sacca Delle Munizie Oh Honey Non posso Fare Solo Questa Fa Vedere Se Gli Appare Pure Questa Non Credo Poi Ha Apparsa Davanti E Non L'ho Vista No Questa Non Gli È Passa Bussola Norrena Con Tutte Lurui No Ok Non Conoscevo Il Il Nome Gergo Tecnico Bellissima Però I Tatuaggi Norreni Sono Delle Robe Fighissime Sono Delle Robe Veramente Veramente Mmm Ma Torniamo Indietro Ma Sì Sì No Ma Cioè Rimaniamo Ma Che Ma Questo È Cancro Non È Peste Io Ve lo Dico È Alex Mercer Questo è Resident Evil Sì No Più che altro Questo è Il loro Nido Tutti Hanno Fatto Il Nido Con Le Carcasse Le Ossa Bellissimo Di design Mjolnir Bellissimo Ma Tipo Dove l'hai messo? Sul braccio Inteso Tutto il braccio O Tipo Te lo sei Fatto Come Fanno Ho visto Che se lo fa Tipo qua Con il martello Sulla mano Per i tatuaggi Sulla mano A me Personalmente A meno che non hai Già Altri Tatuaggi Boh Ma è bello Che Comunque Mjolnir È Vraiment Un nome Bellissimo Yes Questo Chi è Il parroco Però Si illumina Anche Al buio Perché È L'oro Eh ma Quanti topi Buonasera Zarko Però si Veramente Bellino Per adesso Bellissimo Di design Lo stiamo portando In attesa In attesa In vista Del 2 Questa Ci avrà Dei Ci avrà Dei traumi Alicia Torna Dentro La tana E vedi Gava A incontrare Mamma Papà Cero Burn Oh scusate Io continuerò A dirlo Però Bella Come cosa Il nido Però vedi Questa Cioè Continua A dirlo Ormai Si è capito Un po' Che non è Peste Normale Perché Cazzo Quella roba Lì sotto Porca Troia Ma Idem Che si Spolpano Un cadavere Fanno tipo X-ray Sui cadavere Fai bene Fai bene Io Perché L'ho sempre voluto Giocare Con L'occasione Facciamo due Piccioni Con una Fa A ottobre Ci saranno Infatti Due Cioè Tecnicamente Ci dovrebbe Sia il Secondo Di questo Che pure Baionetta L'apprendista L'apprendista No Grazie Alisi Yes No No Maybe Yes Come stai Comunque Zarkon Sta diventando Notte Più che Altro Questa È una Cosa Che Mi Preoccupa Tanto Il Fatto Che Stia Diventando Notte Mi Preoccupa Assai Vabbè Volevo Andare Vede Se c'era Qualche Segreto Alla Dark Souls Madonna Mia Uno non può Manco Più esplorare Che Cazzi Un Mulino Un Decimo Di un Mulino Cioè Qua sotto C'è qualcosa Che Bello Però E E Più o Meno A Certo Punto Depressione Felicità Si Uniscono Diventa Essere Neutrale Sono Vivo Oggi Già È Tanto Open World C'è Un Fuoco Tira In Sasso Qua Dietro E Stordiscilo Te Lo Metti Tipo Orsetto Lavatore Attaccato Alla Cintura È Un Cadavere No Troppe bolle È Un Cadavere Adesso Aspettiamo Vediamo Se c'è La Chica Sì no Lo sto vedendo Che è molto Molto Tranquil Cioè tranquillo Un paio Di Cazzi Però Beh Mi gira il cazzo Che non posso Gio Ti capisco Tito Comunque Per Bayonetta Ti capisco Ma anche io Io già mi sto Mangiando le mani Perché mi devo Giocare Bayonetta 3 Sulla Switch A 720p 720p Nel 2022 Fra Lo standard È diventato Il 4k Io Cristo Qualcuno È venuto A leggere Un libro Alisia Sangue Due Due mondi Di visione Eh Sì Tito Sì Ciao Buonasera Come stai Bello Andiamo a vedere Invece di qua Ma già Che il fatto Che non Scenderà mai Di sconto È una cosa Che mi fa Girare altamente Il cazzo Perché Sappiate Che Bayonetta 3 Lo Vedrete Raramente A un prezzo Sotto a quello Di lancio Raramente E questa è una cosa Che mi fa Incazzare tantissimo Della nintendo Io Bayonetta 2 Ci ho rinunciato Stava a 5 euro Di sconto Che era il massimo Che aveva raggiunto Ho fatto Vabbè Dai Lo accetto Tanto ce li devo spendere 50 euro A me ce li spende Scusate Se sto esplorando Tanto Però Col fatto Che ci sono I power Up Ne approfitto Come la strana Eh sì Ricordiamoci Doom 2016 25 euro Per pc Te lo tirano Dietro a 4 euro Ma tranquillo Fatto tranquillo Buonanotte Anzi Buon romics Per domani È vero È vero Io purtroppo Sarò un matrimonio Purtroppo Per fortuna Però Ragazzi Per essere stato con noi È bello E buon weekend Anche a te C'è troppo silenzio Per essere un bosco Facciamo come su Resident Evil Buonasera Lucio Non posso tirare i sassi Non posso Sì dai Invece Baionetta 1 Per esempio Lo trovi a un cazzo Quello sì Mezzo Men Beh erano qua a sto punto Perché Non rimane molto Mi chiamo Giacomo Per gli amici Baga Che è il mio soprannome Ma posso ucciderli No Ah Stanno apposta Con l'ilmo Eh io dovrei Devo Devo giocarci A A Overwatch 2 Pino a poi Vabbè Perché devo fare Direttamente là Non posso passare In mezzo a questo Cess No Giacomo Per gli amici Baga Lucio Il procione Bellissimo Eh no Non li posso Stannare questi Ragnar Con la roccia Perché c'hanno l'elmo Gliel'hanno messo apposta Bastardi Via 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 Vattene Ben Culo No Aspetta Pensavo se stesse per girare Posso andare No è proprio Corrito Ietto Incredibile No con la G No non mi chiamo Baka Tipo Salmitro Mi fotto Tutto Come era Per tirarlo Con il remodono Mi dimentico sempre Questo invece Possiamo Ucciderlo Cazzo Yugo Mi ha fatto Alisia Su dai Stiamo a passafurti Vi non rompi i coglioni Volevo ucciderlo Ragazzi Sono cattivo Sono cattivo Sì però Ho fatto meglio Per adesso Tutto Quattro Tito Che cazzo è quella Ah è uno Spaventa No ma Perché devo andare di qua Come andare di qua Via via Che tanto Sono curioso Di vedere Il gameplay De Gollum Veramente Perché lui Direa soltanto Con le ma Madonna mia Ma è morta È morta Alicia Qua so Oh ma c'è un C'è uno Scrigno Ma la vera domanda È Io Loro Se c'entro in fight Sono destinato A morire Ah beh Carino comunque O posso entrare Tipo rompergli L'armatura E saccagnarli Di botte Ah ma proprio Io pensavo Fosse chiuso Deve Scassinarlo E' proprio Aperto Vaffanculo Addio Cristo Ma che due Coglio Va bene Meglio di Cosa Di Arno Lei Piotta Ragazzino Bolas Che figo Però come Come soprannome Molto unico Niente Bello Che ci sta Chissà se lo dice Anche per la terza Volta Dai Fai silenzio Posso cambiare Spalla in qualche Modo No Non posso Madonna Proprio Mi hai Stanshottato Figlio di Puttana Ma chi l'aveva Visto Chi l'ha Visto Chi l'aveva Visto Quello Stronzo Madonna Mia Cazzo Di Come si Chiama Leonida Di 300 Sì Più Veloce Corri Da vicino Sembra più Grande Poi appena Si allontana Diventa un Soldo Di caccia No non devi tirare Il sasso Alicia Devi tirare Una roccia Ora Chi cazzo L'aveva Visto Lo stronzo Sì Sono quei nomi Cristiani E come Non mi ricordo Tipo Giacomo Che cazzo Era Ma un sacco De nomi Quasi Tipo tutti Hanno origine Cristiana C'è un amico mio Che c'è uno Molto specifico Che mo Non mi ricordo Che cacchio De nome Era Ma se io Facessi Tipo Era Così E faccio Sì Sono come Quelle di Sono come Quelle di Metal Gear Che sono Ricoglionite Sir Bolas Bellissimo Infatti Meno male che Sono ciechi Si rincoglioni Dove Meno male che Le vedi tu Ugo Perché io So cieco E quanto pare Porco No 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 Io Io Raga Cioè Solitamente io sono Molto Guardingo Su sto gioco Un cazzo Un cazzo Vado a fare In culo Madonna T'ammazzo Quanto è vero Dio Posso ucciderlo Però poi Yugo mi fa No Non lo ammazzare Bastardo Guarda 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 Vabbè no Ma che cazzo Schivi Ah è proprio Shottato Cioè Se ti si avvicinano Basta Te la prendi In culo Peccato Penso puoi schivare Forse perché Mi ha colpito Allora Sono due Partita anche Una pubblicità Nel mentre Quello posso farci Rumore No Devo Entrargli In culo Ma posso farlo Aspettare Tipo qua Aspetta qua Dio Madonna Vai Diece Alla Ma non puoi Schivarla No Dai Non puoi Schivare Una volta che Ti sparano Ti sparano Ma Vaffanculo Che bel nome Anche Teodoro La testa Eppa Questi mi sa Che Yugo Non gli dice Un cazzo Perché Sono quelli Che hanno Ammazzata Mamma e papà Quello Questa cosa Potete Uccidere Tutti Via Qua sopra Già ho fatto Ma se cammino Mi sentono Madonna mi alzo Con cerchio Perché sono abituato A chissà quale gioco Ah proprio Ma che cazzo Ma che Ma che Che ronda Faceva il tipo Saliva Alla sopra Per guardare Il legno Il pezzetto Di legno Perché se no Non si spiega Vabbè Questo si distrae Col vaso Alcuni li hanno Messi proprio Apposta Che non li puoi Shottare C'è qualche Tesoro Da prendere È una domanda Che mi faccio Da una vita Che dici Che classe Ti associano Perché C'è una cosa Che Cioè La persona Che te l'ha Dati Deve conoscere Molto bene Perché Se vai di Prima A chitto Che ti basi Sul nome Su quelle due Cose Che hai visto Non posso fare Un power up Uno Forse Sì Mi manca Della stoffa Eh Bisogna Continuare Ad accumulare Dimmi tutto Broda Se dovessi andare Sulla cosa Di dottor Zarkon Direi Il coso Il L'artificiere Di cioco O Oko Però È difficile Da Da dire Così Di scatto Oppure Itch Itch Molto bello Come Come nome Ciao Itch Come stai Buona Bisogna Abito Devi Smettere Di correre In giro Poi dicono Perché invoiavi I figli È morto Noi faremo Esplorazione Senza Yugo Una volta Tanto Tanto Questi Che alberi Non sono Viti Perché Sono Sì Forse Sono Viti No Sono Sì Ok C'è L'uva Sono Viti È Morto Ah Cavo Era un Alchemista Madonna Quante Viti Siamo Scappate Ai guardi E lui Vuole giocare A un gioco Adesso Giochiamo A un gioco Che si chiama Soffocare Il proprio Fratellino Eh ma Perché Da quel che so Il finale Isolation È un Escalation De roba È un Puttanaio Guardi Madonna Belle Però Così Ampie Le 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 mappe Molto Figa Va Guardate Che Maronghi Che C'è Su Maiale Porca Putta Sono Grossi Come La Mia Capoccia Fa Riferimento Al primo Alien Che Cosa Il Finale Di Cosa Lì Sono Sicuro Che Voglio Entrare Dentro Perché Sto Porro Ragazzini È Stato Praticamente Chiuso Penso In Casa Per Anni Quindi Esce fuori Fa Oh Mio Dio Il Mondo C'è Uno Scrigno Del Tesoro Sì Dovrei Tornare Al banco Da lavoro Ragazzi Porca Mad Sì ma La cosa è Qua è per Andare Avanti Eh immagino Immagino Perché Effettivamente Se è ambientato In quel paese C'è sta Come cosa No Madonna Premo sempre Circhio Per Per Fare Madonna Erano i maiali Ma ha fatto Pieno Infarto Ma sei Scemo Allora Datemi Un attimo Devo Tornare Un attimo Indietro Scatta Non può Scattare Voi Divi starete Giustamente Chiedendo Perché sta Tornando Indietro Devo Fare Un power Up O Non posso Oddio Mio Corri Gesù Anzi No siamo In Francia Gesù Mi arca Quella Una delle Migliori Clip Di Stray Una Delle Migliori Clip Di Stray Posso Fare Oh Custodia Morbida Riduce Il tempo Cessare Per raggiungere La precisione Di tiro Massimo Sacca di Mui No Vorrei Fare Un'altra Tasca Non Un posto No Ce li teniamo Per farci La tasca Allora Sì ma Diciamo che Lo stealth Su alien Isolation È un po' Una merda Cioè A parer mio Cioè Stai contro Una forza Indrefernabile E lo accetto Perché è L'alien Però Veramente Fa il minimo Rumore Buca dal Cazzo Di Cioè Potevano Farla un po' Meglio Perché a un certo punto Ti becca Poi hanno fatto Per esempio La cosa Che è Se puoi collegare Il tuo microfono E effettivamente Se parli Respiri E fai altre cose Ti sente Però Minchia Il miglior Stealth Parliamone Quello Della Alien Isolation Perché Mi Mi Perché sto Passando Sotto Io A vero Posso Oltrepassare Il muretto Cioè È figo Perché C'ha le coperture Ti puoi infilare Sotto Ogni Pertugio Del Del Ciollino Però Alla fine Te ciocca Non posso Portare Un cazzo Bene Così Sì Aveva Quella È perché L'IA Che funziona Un po' Strana Ma diciamo Che l'Alien Ti fa male A qualsiasi Difficoltà In quel gioco Perché se Ti becca Ti sciotta A un certo Punto Puoi Quasi Provare A difenderti Mammi Sono contento Il gioco Che cazzo Di culo Che ho avuto Di culo Sono sparito Neanche il meme Di Homer Simpson Cazzo Vado a fare C'è una signorina Lì C'è un signorino Adesso dovessi dire Il miglior gioco Stelte Che ho giocato Metal Gear The Phantom Pain Ho fatto Una cazzata Ho fatto Ho fatto Una cazzata Di proporzioni Io pensavo Tornasse Lava Porche Emo E ricominciamo Beh ma pure Cioè vedi Sticks pure Però Sono quel tipo Di furtività Perché dipende Dove vuoi parare Alla furtività Perché se vuoi parare Sul Come posso dire Surrealismo È un conto Se vuoi parare Sull'arcade È un altro Perché per esempio Metal Gear E Come si chiama Dio e Alien Ci hanno due Proprio Cioè Sono più Surrealismo Mentre Già Sticks E compagnia Sono più Sull'arcade Anche Anche Di If Che passi Da un'ombra All'altra E non ti vedono Perché sei Il sito di nero Diciamo che La discussione Furtività È un po' Un puttanaio Tu ti vuoi togliere Dal cazzo No perché Quello che sta qua Perché dipende Molto dal gioco E dal tipo Di furtività Che Che porta Come era Mi sbaglio Sempre col tasto Ma mi copre Solo se mi Ci infilo Dentro O anche In toto Cioè Se tipo C'è sto Dietro Mi fa La copertura Posso fare La stealth Kill All'assassin Creed No eh Ah cazzo Non l'avevo Visto Lui Ma perché Ma sono Un coglione Madonna Ci sono Ammazzati Ci sono Tre tasti Mi confondo Cazzo Ci sono Tre tasti Tre Mi confondo Dio mio Che cazzo Faccio Sono tre I tasti Ma perché Hanno messo Il quadrato Per andare In furtività È una roba Che Madonna mia Mi sta dando Al cero Infatti Se vedete Ogni tanto Schifo A cazzo È perché Premo Cerchio Andiamo Andiamo Ah il vaso Quando ce lo mettono Apposta Beh ok Ti danno Tutto Con R1 Si prende La munizione Tira È là Beh è che Questi stanno Pure con L'elmetto Quindi Avranno Una vista Periferica Di un peto Ah Io purtroppo Li ho giocati Pochissimo Se non Quasi Niente Ruppa tutto Per Dio Scappa 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 Ah Questo è un buco Tipo Un'entrata Di un nido Non passi In mezzo Al Al campo Di grano Spero Mi piacciono Più i momenti Con i topi Sarò Che Chi Madonna Cross the map Proprio Quello come è girato Verso di qua Verso di là Ok Verso di là Non ho preso il vaso Sì ma non sono molto fan Delle speedrun Ogni tanto ci provo Per darmi Una piccola sfida Ma Non sono propriamente Un master Andiamo se Ma ha preso pure lui Bravo Cucciolo So che non sembrava Fatta apposta Ma lo era Ah è bello Che vanno in giro Con tutte le lanterne Attaccate ovunque Perché giustamente Hanno paura Della luce Eeeh Eh qua Vabbè In realtà qua È piuttosto semplice Appena quello Se gira Esatto Ma posso alzarmi Sì Ok Sono sordi Ma è che quelle armature Veramente ti occultano I sensi In una maniera Indescrivibile Deve stare tipo Con solo l'elmo Credo che non ti fa capire Un cazzo Tra vista Udito E tutto Porca troia Cazzo Di build Stavano Ok Vai ragazzino Sai che è bello Tipo Cos'era Madonna Bellissimo Bloodborne Eh perché quando si avvicina C'è una reazione La metta a diventare Un leaker Palesemente Adesso ci morde Al collo Ecco E l'ha fatto Alla fine Soltanto doveva farlo Pure prima Gli tirava un masso Qua dietro E poi se lo metteva Dietro Così non rompeva I giciolli Eh perché si percepirà La peste Ma è stato già Mezzanotte Porca droia Ma è volato il tempo Finiamo Finiamo il capitolo E ci salutiamo Non me ne ero per niente Accorto È una cosa positiva È una cosa molto Molto positiva Ma siamo arrivati Al villaggio di Bloodborne Ma che cos'è Ah io pensavo Fossero rocce Io pensavo Fossero rocce Alla prossima Buon fine settimana Sono cazzo Vacche cavalli Ma perché Porco di Le usano come Come esche Eh perché Sì ho capito Sì ma quello non è Escono perché è notte Fanno dei cazzo Di crateri Sono dei figa Di tremor Sti stronzi Non so topi Corri Via 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 Tentente Pareva Ci serve fuoco Valladie Up there Ma dove Up there Scusa Qua Non credo Sembrano degli Heartless Sembrano veramente Degli Heartless Come quegli occhietti Accesi Ah devo piottare Più veloce di loro Ce la faccio Ce la faccio Forse si Più veloci Dei topi Vabbè perché Ancora non è Buio pesto Brutto 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 Questo come si è calmato Quando c'ha la strizza al culo Bella madonna Eh si li usa per attirare No vabbè ma questo Questa non è la gente Questa è l'inquisizione Che per attirarli Così dico a cazzo Per attirarli lontano Dalle città Fa sti ammassi Tipo dei cimiteri De bestie Sicuro Si ma sicuro Proprio come loro Figa come cosa Oppure l'hanno ammazzati Perché magari Sono stati morsi Ci possono essere Vari chiavi di lettura Perché So che uno magari Di primo acchitto Gli viene da pensare L'inquisizione Fide puttana Che facevano Le cattiverie E compagnia È normale Però Da una parte Sono pure i metodi Un po' estremi Ma magari cercavano Di Semplicemente Di Cioè Cercare di aiutare No Allora Sì Sì Il mosè dei poveri O dei topi Dipende dai punti di vista C'è chi spartisce le acque Si dice spartisce Chi divide le acque e chi divide i topi Scusate ma perché dovrebbe esistere questa cosa? Io vorrei sapere più che altro C'è chi è che ha creato un carretto? Un carretto A me che no in realtà ci sta eh Perché se l'inquisizione sta cercando di fare delle cose antitopici Guarda quante vacche Sono maiali io vedo delle macchie Per inchiudere i ratti Eh vedete si Spingni ragazzino Possiamo dire però che l'accento francese C'è l'inglese con l'accento francese è qualcosa di veramente bellissimo Io lo sto adorando C'è anche una vtuber che seguo su tiktok Che è francese però parla in inglese Sai Yuri forse non mi ricordo Morta cittus tua Ecco Però vedete gli sta insegnando le cose Mi da Qua Madonna Gli sta insegnando le cose tipo alla Alla treus No non lo butto nel pozzo Lo sgozzo direttamente Allora lì trama che va avanti Nella casa di Laurentius Noi prima gli fottiamo i materiali a Laurentius Sembra quasi un posto normale Incredibile Eh ciotto madonna Il solfo lo trovate proprio come la peste Giusto perché c'ho le saccocce piene Porting cosa? La madonna Ah no vedi a questo le ossa gli facevano schifo Minchia però Greve Questa è in cavallo Bella là il dettaglio dello scheletro del cavallo Non è Non è veramente da poco Non è veramente veramente da poco Cura per i dettagli Veramente incredibile Fa molto villaggetto spagnolo Spagnolo e scivante Ti prego dimmi che non c'erano delle robe Eh sì invece Io pio sempre la via sbagliata Vedete perché dovevo andare No no perché ho preso la destra Purtroppo Ovviamente perché ho ricevuto dei commenti Quando faccio sempre a destra Figa Non è perché sono di destra È un meme Le tibie di Leon Infatti non me l'ha fatto fare Volevo Vabbè che abbiamo pure il Yugo Che meriterebbe più aiuto di Ashley Nello scendere le cose Guarda Meglio di Ashley Sto cazzo di bambino In questi casi no Però è piccolo Che carino Mi dispiace per i tuoi amichetti Cucciolino A parte per il cavallo Scarnificato Mi sembra che sia piuttosto Tranquillo Sono collezionabili Sti cazzo di fiori E l'altro fiore L'abbiamo perso Ok Sono piccoli collezionabili I fiori Carino Peccato che non puoi Ti è stato bello Che magari Li teneva E tu verso fine game C'hai tipo la decorazione Con tutti i fiori Questa cosa mi fa pensare Che la porta fosse chiusa Ma in realtà Entra sto buco Alicia Non vorrei ditte Ma c'entri pure tu Però Madonna Che cazzo Ma scusi Ma è diventato Uno zingaro Sto cazzo di bambino È entrato Cici cici Aperto Ma come cazzo È possibile Incredibile sei Una macchina Allora Prima di C'è qualcuno Che sta scatarrando Guarda Dillo come tira Non posso ancora Mi serve uno Di stoffa Ma vaffaculo Vido della carne appesa A breve Questa casa Si riempirà Di topi Palese Ok Laurentius Sta al Secondo piano Mi serve un pezzetto Di stoffa Uno Piccolo 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 Ma piccolo Piccolo Non sto a chiedere Molto Strappalo qua Eccolo un pezzo Di stoffa Ma cazzo Ma sì Ma che ci frega Noi ce ne stiamo In campagna Per cazzi Nostri Lumovendo il legno Dalle suole E avvolgi Polpacci Con stoffa Spessa Amici Riduce Il rumore Dei propri Movimenti Ma scusa Ma è Vabbè Sto zitto Ah E' apparsa Questa Ma questa è Tipo Vabbè Non si sa L'edà di Alicia Fammi sta zitto Fammi sta zitto Andiamo Ovviamente La giarrettiera Che la rende Più stelta Il bitroll Praticamente Rileggiamo i codex Perché magari C'è qualcosa Che ci fa Capire meglio La trama Lucas Ma dove si steppare Back pure tu Qui La inquisizione L'inquisizione L'onore È L'onore 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 Che La grande frattura che è Elden Ring, pure qua. E' Amicia, ma come cazzo l'ho chiamata fino a mo? Vabbè, calma, oh madonna, ma che c'era i problemi di gestione dell'ira questa ragazza? Vabbè, quant'è alla fine magari loro so... A parte i poteri sovrannaturali, eh. Perché sicuramente ci sarà qualche cosa tipo che controlla i topi, ste cacate, gli gestisci. L'Ignifer. Sarà pure che magari sono immuni, perché sono appena passati in mezzo a una città piena di infetti. Vabbè che non è tipo, ti avvicini a qualcuno due minuti dopo stai morto, per carità. Però... Ma l'Ignifer mi sa semplicemente di lanciafiamme. Vabbè, Hugo, non voglio che tu resti qui. Bravo. Bravo. Il primo mi hai dato la pizza a buttare, a me me ne vado. Sfortunatamente. Quanto durerà ancora il capitolo, secondo voi? Cosa faremo? Aviamo un del culo. No, 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 la luce... Ah, ok. Devi romperla, perché sennò non ci andranno mai. Vabbè, qua ci sta a che fare, ragazzi. Cioè, non davanti ai topi canni carnivori tritacarne. Però... Eh, eh, eh. Ah, sapete che c'è? Si è fatta comunque una certa. Non voglio fare troppo tardi. Ha salvato qua, fortunatamente, no? Ci fermeremo qua. Però bellino. Bellino, perché mi ha fatto passare due ore e non me ne ero nemmeno accorto. Che cazzo vuole l'Epic Store? Ah, stanno sgommando qua fuori. Bellino, bellino, bellino. Non me ne sono per niente accorto che è passato tutto questo tempo e... Fico. Molto semplice, sia nella furtività che nelle meccaniche. Però efficace. Però efficace. Devo vedere il combattimento, perché se veramente diventa che... Cioè, penso ci sarà un modo per seccarli anche quelli in armatura. Magari, tipo, durante la notte puoi farli assaltare dei topi. Cioè, gli... Perché ho visto che abbiamo rotto, tipo, la lanterna di qualcuno. Una roba del genere, no? Vediamo. Vediamo. È solo l'inizio. Una cosa che mi metterò a fare è vedere perché Streamlabs consuma tutta sta cazzo di CPU. È una macchina, porca troia. Ma per il resto, ragazzoli, io vi ringrazio tutti quanti della compagnia. Perché è rimasto fino adesso che è mezzanotte 20. Noi ci vediamo lunedì con Resident Evil. Vi auguro un buon fine settimana, un buon riposo. E ricordate sempre, Corgi Gang fa ben bene. Buon anno a tutti quanti. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Grazie a tutti.